La comunità irpina di Forino è sotto shock per la morte di Gerardo Spolverino, 61 anni, morto ieri sera in un tragico rogo nella casa di suo figlio in via San Paolo della Croce. Gerardo stava provando coraggiosamente a spegnere l'incendio della canna fumaria e del tetto in legno della casa intorno alle 22 quando è morto, molto probabilmente stroncato da un infarto. Aveva cercato di attutire le fiamme salendo ai piani alti della casa. Inutili tentativi di rianimare il 61enne da parte dei sanitari del 118 arrivati subito sul posto. Toccherà ora al medico legale incaricato dalla procura della Repubblica di Avellino chiarire le cause che hanno portato alla morte dell'uomo che lavorava in Brasile ma rientrava in Italia molto spesso, cordoglio e dolore in paese. È successo l'incidente, che possiamo fare? Ha cercato di aiutare, gli è andata male, questo mi dispiace molto, era una brava persona, per me era una brava persona. Lui faceva il pavimentista, aveva la figlia, poi aveva il negozio, il l'haio matto. Lui ha cercato di fare una cosa buona, ha visto i bambini che c'era il pericolo e ha fatto una cosa buona, ma che possiamo dire? Questo è. Non si sa, perché purtroppo se è stato il fumo è svenuto e al 90% hanno la voce che gira che ha avuto un infarto praticamente, si è sentito male e ha avuto un infarto. È attivissimo, una persona impegnata, aveva anche un'attività in Brasile, quindi è uno che si dava da fare. Una persona, un ragazzo per bene, purtroppo sono quelle cose, quei fulmini al cielo sereno.